Ranieri, la situazione è senza dubbio oggettivamente direi paradossale perché ci sono aziende che stanno ricevendo incentivi ma licenziano. Sì, ci sono aziende che stanno ricevendo incentivi e agevolazioni in questo periodo particolare perché da un lato ci sono aziende in crisi ma poi sono delle aziende che non sono in crisi e che stanno facendo utili proprio grazie agli incentivi statali. Il problema è anche questo Ranieri, sono incentivi che non hanno però delle condizionalità. Sì, quello che noi stiamo chiedendo al governo è che tutti gli incentivi siano legati a delle condizionalità. È giusto aiutare le imprese ma a condizione che queste capiscano il ruolo sociale alle quali sono chiamate anche dalla nostra Costituzione e quindi a loro volta abbiano un impegno a mantenere qui l'occupazione, la ricerca e a fare qui gli investimenti. Ci troviamo in un periodo in cui tanti incentivi, tante risorse sono stati dalle imprese e tanto potranno beneficiare le imprese dei grandi fondi europei che stanno arrivando nel nostro Paese grazie al Piano Nazionale di Riprese e Resilienze e a tutta la programmazione 2021-2027. Tra l'altro l'Abruzzo è una regione che potrebbe soffrire fortemente di questo processo scellerato di delocalizzazione perché la nostra regione, l'Abruzzo, è una regione manifatturiera con una forte presenza di multinazionali e quindi un processo che sta andando avanti, che se non viene fermato, e degli esempi già li abbiamo avuti nel passato e anche nei giorni scorsi, rischia veramente di desertificare il nostro territorio e di produrre una crisi industriale importante per la nostra regione che noi non possiamo permetterci e che dobbiamo scongiurare con tutte le nostre forze. In sintesi, Renieri, il problema è politico, voi siete preoccupati anche per quello che sta accadendo per esempio all'Ariello? Assolutamente sì, l'Ariello è un caso emblematico, un'azienda che oggi ha una forte produzione dovuta al fatto degli incentivi sul 110% sulle ristruttorie edilizie eppure decidi di delocalizzare senza avere nessun problema. Il problema certamente è un problema politico perché lo Stato, ripeto, e le istituzioni a regione deve fare una politica industriale e deve condizionare tutti gli incentivi a che vi sia il fatto che la produzione resti nella nostra regione e che vengono assicurati gli investimenti della nostra regione. Non è più possibile pensare alle aziende che vengano nella nostra regione, facciano shopping, prendano gli incentivi e poi vadano via appena trovano da un'altra parte condizioni migliori.